Federica Mauro è una diciottenne che vive ad Arezzo con la sua famiglia. La sua disabilità è dovuta ad una anomalia genetica rara che non le ha impedito però di coltivare una sua passione, la pittura. Un suo quadro, raffigurante Dante Alighieri, era già stato scelto dalla Dante Society di Londra come locandina del concorso artistico internazionale Dante 700. L'Accademia della Crusca ha voluto poi proporre l'opera di Federica come immagine di copertina del volume Dante Italiano. Adesso arriva un'altra grande soddisfazione per Federica e la sua famiglia. È stata scelta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra i 30 alfieri al merito della Repubblica Italiana di quest'anno. Beh insomma mi sono commossa, è emozionante tutto. Il fatto che si riconosca che appunto che una persona con disabilità, perché è la verità, il problema c'è, esiste. Però è anche guardato da un'altra parte, no? Visto come si può riuscire e l'han capito che si può riuscire a fare di più e fatto bene. Noi abbiamo avuto questa buona sorte alla fine di avere il quadro Dante Lestel riportato sul libro dell'Accademia della Crusca e quindi il veicolo arte, il veicolo cultura che è così trasversale su tanti temi, su tante cose, cerchiamo di declinarlo al nostro gusto per tentare di usare proprio queste leve dell'arte e della cultura per trasversalizzare l'idea che anche le persone con disabilità riescono a fare cose belle. Devo dire molto orgogliosa anche se ha i suoi pregi, i suoi difetti, ma devo dire... No, devo dire è brava, non me l'aspettavo, è una cosa positiva, è brava. E mentre Federica ci indica un quadro appeso nella sua abitazione che raffigura Gianna Nannini esprime un desiderio. Porto il quadro. Speriamo, speriamo, anche perché noi abbiamo questa associazione toscanabile, il toscanabile è trasversale, è un neologismo anche questo, con questa associazione tentiamo di mettere su anche una sorta di format dell'inclusione, una format della possibilità di gestire anche situazioni sinergiche trasversali su tante tematiche.